Non un problema di risorse economiche ma di risorse umane. E' il segretario della SS di Tortora, Leonardo Lapetina, a intervenire sulle sorti della compagine tirrenica a pochi giorni dalla diffusione della notizia circa il rischio di una mancata iscrizione al prossimo campionato di terza categoria. Tenevamo a precisare questo, cioè che da come si è parlato, si è commentato, era un problema economico il discorso dell'iscrizione e andare avanti nella società sportiva. La verità invece sostanzialmente è breve e chiara, cioè a Tortora oggi noi siamo ancora alla ricerca di persone che possono dare una mano alla società sportiva per andare avanti, per lo svolgimento dell'attività sportiva. Si dice sì, 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 però nessuno si fa avanti per dare disponibilità di tempo dedicarsi a un'attività sociale. Se veramente i tortoresi e tutte queste persone che parlano e discutono, se veramente hanno voglia di far andare avanti il calcio a Tortora, si facessero avanti. Alle 19 nella sala consigliare c'è il resoconto dell'attività calcistica 2013-2014, l'ingresso di nuovi soci, di persone che se vogliono far parte, non devono cacciare soldi, devono mettere la persona, la disponibilità del tempo e possibilmente se viene fuori un nuovo presidente, una persona semplice, possibilmente, che rappresenti la cittadinanza tortoressa. Ai nostri microfoni anche l'ex presidente Franco Matellicani che ha voluto ribadire i motivi delle sue dimissioni. Le mie dimissioni sono state date per motivi che qualcuno sa sono state dovute a motivi familiari, ma con tutto ciò la dirigenza che era rimasta comunque si è dato da fare in questi giorni rimasti per poter trovare un nuovo sostituto che sostituiva la mia figura per proprio portare avanti questo nostro progetto che, come avevo detto prima, doveva durare tre anni. E noi, come abbiamo detto prima, vogliamo mantenere questo impegno. È chiaro, secondo me è più un problema di uomini che è un problema economico, perché il nostro Paese, purtroppo a volte, come dico spesso, si fanno molte chiacchiere, però mettersi in discussione poi diventa sempre più difficile. Vorremmo sollecitare questi uomini che parlano tanto, però poi non si mettono mai in discussione. Questa è stata la nostra provocazione. Io da presidente uscente è chiaro che garantisco la mia disponibilità, forse non proprio fisica, ma sicuramente il mio contributo, come ho sempre dato anche negli anni passati, ci sarà continuamente anche in questi anni che sicuramente porteremo a termine questo nostro progetto che, come ho precisato prima, dovrà durare tre anni.